In vivo sul palco Luca Rossini Ecco intanto la motivazione Un elaborato complesso, originale e immaginitico Una ricostruzione ideale di una città del passato Non a caso la orientazione scelta è quella del medioevo Dove l'eccessiva semplificazione e la volontà di trovare un facile capo espiatorio Portano ad una soluzione peggiore del problema Fuor di metafora, uno stimolo per una riflessione seria Sul tema di come e dove sostituire la plastica Senza nessuna aprioristica pressione E fu la necessità di comprendere in diversi contesti di applicazione La complessità del problema E trovare non una ma tante soluzioni Uno stimolo all'impiego del metodo scientifico Oggi spesso rinuperato Ma quanto mai necessario nella nostra società Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti